10 secondi, attenzione, top voti! Alla fine però, sesto, settimo, non so cosa ho fatto, però dai, buon segnale, vuol dire che la condizione è buona e siamo solo all'inizio appunto. No perché ero in mezzo, ho visto i primi del gruppo che si sbracciavano, non ho visto il cane però c'è stata un po' di tensione in gruppo. Perché i altri non vengono pronto, eh?